I finanzieri di Taranto hanno arrestato 5 persone per usura ed esercizio abusivo di attività finanziaria. Una di esse è stata sottoposta ai domiciliari. Le indagini sono scaturite a seguito di denunce risalenti al 2011 nei confronti del 62enne Emanuele Cellammare e del 46enne Giuseppe Perelli, entrambi tarantini, per il reato di usura. Coinvolto anche un 53enne, le cui iniziali sono CE, che prestava ingelti somme di denaro a Cellammare affinché questi le utilizzasse per fini usurari, con conseguenti profitti per entrambi. Grazie alle riprese video e alle intercettazioni telefoniche, le Fiamme Gialle hanno potuto accertare e documentare l'attività illecita posta in essere dai due, che si avvalevano anche dell'operato del 70enne Vittorio Di Bello e del 45enne Davide Tagliente, anch'essi tarantini. Questi ultimi si occupavano di procacciare i clienti, una trentina in tutto, fra cui alcuni imprenditori. Il tasso di interesse applicato oscillava tra il 90 e il 160%. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati anche numerosissimi titoli di credito, per un valore complessivo di circa 40.000 euro. Una pistola con matricola a Brasa, che due degli indagati avevano nascosto nell'appartamento di un'anziana signora, anch'essa vittima dei finanziamenti illeciti. L'autorità giudiziaria ha inoltre disposto il sequestro preventivo di beni immobili, autovetture e polizze assicurative facenti capo al 62enne e al 53enne, per un valore complessivo di circa 150.000 euro. L'ILVA di Taranto ha ordinato quattro filtri per abbattere le emissioni di diossina fino a 0,1 nanogrammi per metro cubo. A renderlo noto il subcommissario Edo Ronchi, che rassicura il presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, il quale nei giorni scorsi aveva chiesto al ministro Orlando che si applicasse all'ILVA la migliore tecnologia disponibile per abbattere le diossine. I filtri sono stati ordinati all'azienda Siemens e costeranno 60 milioni di euro. Il governatore Vendola chiede di essere interrogato dai PM che si occupano dell'inchiesta ambiente svenduto sull'ILVA, nella quale è accusato di concussione. In tutto sono una ventina su 50 gli indagati che hanno avanzato la stessa richiesta alla procura tarantina. Fra di essi anche Giorgio Assennato, direttore di Arpa Puglia, accusato di favoreggiamento personale, e Luigi Capogrosso, ex direttore dello stabilimento ILVA di Taranto, accusato di concorso in disastro ambientale, insieme ai membri della famiglia Riva. Ancora sulla vicenda ILVA, il ministro dell'ambiente Andrea Orlando, dopo il servizio di lunedì scorso intitolato Patto d'Acciaio, realizzato dalla trasmissione di Rai3 Report, ha dichiarato che i Riva non hanno ricevuto nessun favore da parte sua. Il ministro si riferisce all'autorizzazione della discarica Mater Grazie, concessa, sostiene, nell'ambito dell'attuazione dell'AIA per garantire le attività di bonifica. Nel servizio, Report riferiva che i rifiuti tossici e quindi nocivi entravano in contatto con la falda acquifera. Ieri pomeriggio gli agenti della squadra volante di Taranto hanno tratto in arresto un 52enne, perché responsabile dei reati di tentato omicidio nei confronti della sua ex convivente, porto e detenzione di pistola alterata clandestina. L'uomo ha sparato due colpi di pistola contro la donna di 27 anni, colpendola al braccio sinistro e alla mano destra. La malcapitata, soccorsa e trasportata in ospedale, guarirà in una decina di giorni. L'episodio si è verificato in Via Venezia, all'altezza di Viale Magna Grecia. I carabinieri di Lizzano hanno arrestato il pluripregiudicato Simone Pasquale Zecca, 25enne del luogo sorvegliato speciale, per rapina aggravata in concorso. Il giovane è ritenuto l'autore di una rapina perpetrata il 5 dicembre del 2010 nei confronti di un macellaio di Lizzano. Mentre il commerciante chiudeva la saracinesca del locale, è stato sorpreso alle spalle da Zecca che, travisato da passamontagna e armato di pistola, dopo avergli sottratto l'incasso della giornata di 2.000 euro, si era dileguato a bordo di un'autovettura condotta dal complice. Il commerciante ha fornito indicazioni utili all'individuazione del malvivente, assiduo cliente della macelleria, come il taglio degli occhi, il timbro della voce e il profumo. Grazie.